Un turista francese di 75 anni è morto ieri dopo essersi tuffato nel lago di Como a Pescallo, frazione di Bellagio. L'uomo non è più riemerso ed è subito scattato l'allarme. Erano da poco passate le 19.30. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano lo hanno recuperato a 7 metri di profondità, l'hanno riportato a riva, ma purtroppo per Jacques-Marie Ernest Bablet non c'è stato nulla da fare. In base a quanto ricostruito il turista, che era ospite di un albergo nelle vicinanze con la famiglia, si era immerso in prossimità della riva e i familiari erano a poca distanza. In pochi istanti non lo hanno più visto. Il lago in quel punto, in pochi metri, diventa subito profondo. Dopo la richiesta d'aiuto in gente e la mobilitazione sul posto per le ricerche, sono arrivati i carabinieri di Bellagio e i colleghi con la moto vedetta da Lecco, i vigili del fuoco da Como e da Canzo con i sommozzatori da Milano e i soccorritori del 118. È stato individuato, come detto, a circa 7 metri di profondità incagliato tra due barche. Poi, appena riportato in superficie, sono state avviate le operazioni di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. La salma è stata restituita alla famiglia.